Un saluto a tutti gli spettatori e le spettatrici di questo nostro piccolo commento video, stiamo per introdurvi alla proiezione del gatto con gli stivali, ci stiamo guardando il trailer giusto per iniziare ad assaggiare qualche immagine di questo coloratissimo, vivacissimo e strepitoso film di animazione, vi racconto com'è nato. Questo adorabile micetto era il coprotagonista di Shrek 2, quindi il sequel della saga di Shrek che è molto celebre, molto famosa. Quando tutti videro quel film si innamorarono completamente di questo personaggio, tant'è che chiesero ai produttori della saga di creare un film, un lungometraggio dedicato esclusivamente a questo adorabile micetto. Ecco allora che nasce il gatto con gli stivali, si chiamano spin-off, ovvero dei film che esulano dalla saga principale di un determinato gruppo di personaggi, come in questo caso quello di Shrek, e vanno a raccontare delle storie parallele dedicate invece a uno di questi buffi animaletti, in questo caso appunto il nostro micio. Allora, il gatto con gli stivali è un film interessantissimo perché noi lo vediamo qua, guardate che bel primo piano, molto coccoloso, molto simpatico, lui è un personaggio strepitoso, ma per tutta la vita ha vissuto avventure mirabolanti, distaccandosi un pochettino da quella che è stata poi la sua infanzia. E effettivamente questo film racconta di quanto sia importante mantenere una crescita e un'identità costante e coerente lungo tutti gli anni. Perché? Perché tra l'infanzia e l'età adulta c'è di mezzo un mondo, e spesso e volentieri questo mondo rischia di essere un po' complicato, un po' problematico. Però, se rimaniamo bimbi dentro, allora potremo continuare a vivere delle avventure sensazionali, ed è quello che succederà nel nostro gattino, perché dovrà vivere delle avventure favolose, nel senso letterale del termine ci sono molte favole presenti all'interno di questo lungometraggio, ma soprattutto dovrà cercare di fare i conti con una grandissima amicizia che oggi, con l'età adulta, rischia di non essere più tale. Non voglio raccontarvi troppo, perché poi ho paura di rovinarvi la trama del film. Però ecco, fate attenzione a un personaggio, un personaggio che ha la forma un po' bizzarra, la forma di un ovetto, un uovo. Ecco, questo uovo ha covato una grande amicizia con il gatto con gli stivali, quando erano bambini, quando erano ragazzi. E poi poco alla volta le cose si sono un pochetto complicate, però. Ed è lì che sta il problema. Tornare bambini, vivendo una grande avventura, vivendo una grande favola, può far riscoprire il valore unico e fondamentale dell'amicizia. Questo è uno dei temi più importanti del film, penso anche che sia un tema importante per la saga di Shrek in generale, ma il film del gatto con gli stivali veramente lo restituisce in maniera perfetta. Come potete vedere ci sono anche i fagioli magici, c'è questa pianta che va verso il cielo, quindi vi dicevo che il discorso delle favole è molto presente. Ma perché allora tornano queste favole? Beh, se abbiamo detto che è un film che vuole provare a raccontare di quanto sia utile e indispensabile tornare bambini, un film che tematizza l'importanza dell'infanzia anche quando si è adulti, allora ecco che anche i più grandi tra gli spettatori, guardando questo film, riassaporando il gusto di quelle favole che erano soliti sentirsi raccontare da giovani, da piccoli, possono provare a capire l'importanza di questo messaggio. Mi raccomando, gli scenari come questo, bellissimi, fantasmagorici, colorati, perché poi il film è ricco di avventura, pensate che la voce dell'attore che ha doppiato il gatto con gli stivali è quella di Antonio Banderas. Antonio Banderas è diventato famoso in tutto il mondo, è un attore spagnolo molto celebre, perché ha interpretato Zorro nei film più famosi che sono stati dedicati alla figura di questo uomo mascherato. Quindi Antonio Banderas è un po' visto in tutto il mondo come lo Zorro per eccellenza. Ecco che Zorro vive tantissime avventure strepitose, allora non possiamo che aspettarci un tenore di questo tipo, per cui anche queste immagini stratosferiche vanno veramente, guardate qua che bello, vanno veramente a ritagliare la figura di il gattino come se fosse uno Zorro contemporaneo. Bene, io spero di avervi dato una chiave di lettura in più, spero di avervi messo voglia di recuperare questo film, perché è veramente spassosissimo e divertente, e allora vi auguro una buona continuazione, ci rivedremo su questi canali, per qualsiasi domanda e dubbio scrivetemi, raggiungetemi, perché vi ascolto più che volentieri, e ci diamo appuntamento alla prossima volta. Arrivederci!